Noi abbiamo parlato di questo concorso per i giovani che viene organizzato dal club di veicoli elettrici di Monte Carlo e abbiamo detto che una ragazza, una ragazzina aveva vinto questo scooter. Siamo con la vincitrice che si chiama Cindy Battaglia, che è in monogasca, quindi parleremo in francese. Cindy, buongiorno. Buongiorno. Congratulazioni per la ragazza del scooter. Grazie molto. Allora, siete qui con la tua coppina? Ah, sì. Come c'è la motivazione per fare questo design sul scooter? Non, non so, io volevo avere un scooter e ho trovato bene di fare un segno sui papi e tutto questo. E poi, se il segno si è riprodurato sul scooter, e io sono contenta di l'avere. E pensate di raggiungere la prima posizione di questo concorso? O tu pensi che è molto difficile e che magari non è possibile? Beh, è difficile, perché non so ne sai cosa le giurisano come dei segni e tutto questo. Ma, beh, ho stato molto sorpreso di essere la prima. E tu, che hai detto che hai raggiunto di raggiungere questo scooter? Beh, sono molto felice. Grazie per lei. Ok, grazie per voi, buona chance con il scooter e attenzione con la sicurità. Oui. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.